Isolata al Policlinico di Monserrato la variante Omicron B.A.5 del SARS-CoV-2, la variante è stata trovata su un uomo di 36 anni che sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Il caro energia sta mettendo in crisi anche i comuni. Il sindaco di Flubini Maggiore Marco Corrias ha disposto una serie di misure per il contenimento dei consumi nel palazzo comunale. In autobus a Porto Flavia, grazie all'accordo tra Comune d'Iglesias e Trenitalia, gli autobus trasporteranno i turisti da tutti i treni della stazione ferroviaria con un costo aggiuntivo di 3 euro. Prosegue con successo il Water Sport Festival di Surf a Calasetta a Sototorre e si riprenderà domani sino a domenica 12 giugno con le gare internazionali. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, in apertura una notizia che riguarda la situazione sanitaria. Il laboratorio centrale del Policlinico Duilio Casula ha infatti isolato per la prima volta in Sardegna la variante Omicron BA.5 del virus Covid. La variante è stata trovata su un uomo di 36 anni testato durante l'attività di controllo svolte in ambito ospedaliero. L'uomo sta bene per fortuna e si trova in isolamento domiciliare. Questo conferma che il coronavirus sta ancora circolando e che le misure per proteggere gli ospedali devono continuare ad essere mantenute, ha confermato Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Lo abbiamo scoperto solo grazie al tampone molecolare che è l'unico metodo che consente poi il sequenziamento genomico, così come richiesto alla nostra struttura dell'Istituto Superiore di Sanità per conto del Ministero della Salute nel piano di sorveglianza integrata nazionale. La sotto variante BA.5 sembrerebbe essere più contagiosa rispetto alle precedenti. E adesso voltiamo pagina ma restiamo sempre nell'ambito sanitario perché diamo uno sguardo ai dati aggiornati proprio sul Covid. Sono 383 nuovi positivi in Sardegna su 1.359 tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9, mentre quelli in area medica 91. Sono inoltre 11.901 le persone in isolamento domiciliare, dati questi ultimi in diminuzione per fortuna. Si registrano tre decessi, una donna di 93 anni residente nella provincia di Oristano e due uomini di 76-80 anni invece nella provincia del Sud Sardegna. E adesso voltiamo pagina. Il caro Energia sta mettendo in ginocchio anche i comuni, oltre imprese e famiglie. Vediamo quindi i provvedimenti adottati dal sindaco di Fluminimaggiore, Marco Corrias, per fronteggiare la grave emergenza che incide sul bilancio dell'ente per circa 100.000 euro. Il pesantissimo rincaro dei costi dell'energia determinato dagli eventi internazionali su tutti l'invasione della Russia in Ucraina sta provocando conseguenze gravissime nel sistema produttivo, in larghi strati della popolazione e nelle amministrazioni pubbliche. L'amministrazione comunale di Fluminimaggiore, guidata dal sindaco Marco Corrias, nonostante il comune disponga di impianti di produzione di energia alternativa, non riesce a compensare l'incremento della spesa derivante dal predetto rincaro, quantificabile in presunti 100.000 euro e conseguentemente ha attivato azioni finalizzate al contenimento dei consumi elettrici, nello specifico quelli del palazzo comunale. Rilevato che in particolari periodi dell'anno si prevede negli uffici comunali una notevole riduzione nell'accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici e che con la collocazione del personale dipendente in concedo ordinario d'ufficio viene garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell'ente e che tale riduzione di accessi è particolarmente riscontrabile nella stagione estiva, nello specifico in occasione del rientro pomeridiano e in prossimità di giorni di festività, venerdì 3 giugno, martedì 14 giugno, giorno successivo al 13 giugno festa del Santo Patrono e martedì 16 agosto, giorno successivo al 15 agosto festa dell'Assunta, gli uffici resteranno chiusi. Nel periodo decorrente dal 1 giugno fino al 31 agosto il rientro pomeridiano è stato limitato al 21 giugno, 12 luglio e 9 agosto, tali giornate saranno conteggiate d'ufficio in contoferie. Saranno assicurati infine i servizi essenziali e imprescindibili per l'utenza, quello di Stato civile con la reperibilità di un impiegato dei servizi demografici e servizio manutenzioni sistema idrico integrato con la reperibilità di un operaio comunale. A Porto Flavia in autobus in coincidenza con i treni in arrivo alla stazione di Iglesias sarà possibile a partire da sabato 18 giugno grazie all'accordo siglato tra il comune di Iglesias e Trenitalia. Sentiamo i dettagli in questo servizio di Giampaolo Cirronis. Un nuovo importantissimo passo in avanti per arrivare alla piena fruizione dei siti minerali di Iglesias da parte dei turisti sempre più numerosi ma ancora numericamente lontani da quello che è il reale potenziale dell'enorme patrimonio è stato compiuto dall'amministrazione del comune di Iglesias che, primo in Sardegna, ha stipulato un accordo con Trenitalia per garantire la continuità di servizio verso gli stessi siti. Dal prossimo sabato 18 giugno con Porto Flavia Link sarà possibile prenotare attraverso il portale internet di Trenitalia il biglietto combinato treno bus con il costo aggiuntivo di 3 euro. Per la durata del periodo estivo le corse combinate saranno disponibili in concomitanza con tutti i treni in arrivo da Cagliari. Il servizio che sarà composto da 15 collegamenti al giorno tutti i giorni partirà dalla stazione di Iglesias e arriverà all'ingresso della biglietteria di Porto Flavia. Un risultato importante per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Usai che consentirà di semplificare il servizio usufruendo dei mezzi pubblici senza dover cercare altre coincidenze e senza dover noleggiare altri mezzi con sensibile aggravio dei costi. Grazie alla convenzione stipulata tra Comune e Siportal possono partire lavori per la posa della fibra ottica FTTH da Arzacchenea. la società estenderà la propria infrastruttura di rete in fibra ottica nei borghi a partire da Porto Cervo. Ben ritrovati in studio per questa seconda parte del TG40 Life Safe for Vultures parte da Urzulei il ciclo di incontri di disseminazione sul territorio. Vediamo di cosa si tratta. Prenderà via da Urzulei il ciclo di incontri di disseminazione dei grifoni sul territorio. Lunedì 13 giugno alle 10 presso l'hotel Gorropu in località Silana si parlerà del ruolo delle guide ambientali per la reintroduzione dei grifoni in Sardegna e l'idea che ispira il coinvolgimento delle guide ambientali all'interno dei processi virtuosi innescati dal progetto per la sopravvivenza a lungo termine dei grifoni in Sardegna. I partner del progetto Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, l'Agenzia regionale Forestas, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e Distribuzione e Vulture Conservation Foundation inaugurano con questo evento un ciclo di iniziative di disseminazione territoriale che hanno lo scopo di includere le comunità locali tra gli attori attivi di un processo fondato sui principi dell'economia circolare e della sostenibilità e finanziato nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020. Ad aprire l'incontro realizzato con il patrocinio del comune di Urzulei, della Proloco di Urzulei, del CEAS Supramonte e del gruppo archeologico speleologico ambientale Urzulei Gasau, saranno i saluti di Ennio Arba, sindaco di Urzulei e di Michele Pugeddu, direttore del Servizio Territoriale di Forestas all'Anusei. Seguirà l'intervento di Fiammetta Berlinguer dell'Università di Sassari che illustrerà il progetto. Al grifone e al suo ruolo fondamentale per l'ecosistema sardo sarà dedicato il focus di Giovanna Serra e Dionigi Secci di Forestas. Giovanni Tesei del Corpo Forestale racconterà l'esperienza del nucleo cinofilo nella lotta contro l'uso illegale del veleno, mentre la guida turistica Fabrizio Vella di Quintula parlerà del ruolo delle guide del territorio. Chiuderà la giornata il fotografo naturalista Domenico Ruiu con una testimonianza della storica presenza del grifone nel territorio circostante e in generale in Sardegna. Al termine del suo intervento ci sarà spazio per domande e approfondimenti. L'evento rivolto in prima istanza alle guide turistiche ambientali del territorio e di tutta l'isola, ma la portata e la varietà dei temi affrontati ne fanno una buona occasione di confronto per amministratori locali e altri attori economici, sociali e culturali del territorio. Sembra impossibile che ancora oggi sia difficile difendere le spiagge dell'isola da chi con prepotenze d'arroganza e ignoranza le vorrebbe usare come parcheggio di scariche parole amare quelle di Teresa De Montis rappresentante dello studio DMC di Cagliari che ha la direzione dei lavori per la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente costiero della cala di Perdesali nota come spiaggia di Porto Columbo. Da quando sono iniziati i lavori di ingegneria ambientale sono stati commessi ben due atti vandalici. Il primo appena eseguite le lavorazioni dedicate al trattenimento della sabbia che hanno visto incendiato in una notte tutto il cordone in bio stuoia. Il secondo pochi giorni fa quando la staccia nata in castagno che fa da impedimento all'arrivo delle auto e che sarà rimossa una volta ripristinata la vegetazione è stata abbattuta e privata di alcuni elementi. Senza possibili commenti notizie come questa. Al via a Cagliari la quarta edizione di Marina Estate. Vediamo. E' tutto pronto all'azzaletto di Cagliari per la quarta edizione di Marina Estate, il festival teatrale per bambini e adulti organizzato da Teandric Teatro Non Violento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu. A partire da oggi e sino al 29 giugno nello spazioso chiostro del centro polifunzionale d'arte e cultura andrà in scena la ormai consolidata manifestazione tra le uniche ad occuparsi di intrattenimento per i più piccoli nell'estate isolana che proporrà un ricco cartellone di eventi con un focus su temi e argomenti cari dei bimbi ma anche spettacoli all'insegna del teatro contemporaneo e tanti appuntamenti collaterali. Le protagoniste di questa edizione saranno le compagnie Abaco Teatro, Anfiteatro Sud, Il Mutamento, Teandric Teatro, Salza Teatro, Teatro d'Inverno, Teatro Instabile, Teatro Nucleo, L'Effimero Meraviglioso, Teatro dell'Orsa e Senza Confini di Pelle. La quarta edizione di Marina Estate vuole essere una festa della creatività e della bellezza per grandi e piccini ha detto Maria Virginia Siriu, direttrice artistica di Teandric Teatro. La scelta è ricaduta su un ampio cartellone che prevede ben 22 appuntamenti disseminati dal 7 al 29 giugno, 11 per i bambini e le famiglie alle 18 e 11 di teatro contemporaneo alle 21 e 30. Abbiamo voluto esagerare. La ricchezza dei due cartelloni fa da contrappeso agli ultimi due anni di restrizioni e di impoverimento della socialità in tutte le sue declinazioni. Teandric ha quindi scelto di realizzare una kermesse per dare al pubblico la possibilità di vivere un'esperienza capace di valorizzare tutto ciò che fa parte del rito teatrale anche prima e dopo lo spettacolo. Non solo tante proposte artistiche capaci di far vibrare le corde dell'anima dunque, ma anche un luogo magico che ci accoglierà l'intero evento. Il Lazzaretto di Cagliari, situato nella periferia cittadina, anche per questo particolarmente silenzioso, circondato da ampie piazze davanti al mare con all'interno un chiostro in cui si svolgeranno gli spettacoli, con un ampio palcoscenico all'aperto e un'offerta enogastronomica di qualità. Adesso una notizia che riguarda la città di Carbonia, precisamente le famiglie della città di Carbonia, i genitori delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti appunto nel comune di Carbonia possono presentare domanda di iscrizione all'asilo nido comunale i colori dell'arcobaleno fino al prossimo 11 luglio. La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, nel caso invece di un unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Le richieste sono da inviare al protocollo del comune, preferibilmente via mail o via PEC, allegando un documento di identità, l'ISEE in corso di validità e il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente. Questo pomeriggio alle 16.30 si terrà presso la sala polifunzionale di Carbonia, la presentazione della sedicesima fiera del Sulci Siglesi Entespone in programma l'11 e il 12 giugno prossimi a Carbonia. L'evento è patrocinato dal comune e come già detto la presentazione appunto dell'evento si terrà nella sala polifunzionale questo pomeriggio. Invece domani mercoledì 8 giugno alle 10 nella sala dedicata al generale Andrea Versari del Palazzo della Vallè in via Torino a Cagliari avrà luogo la firma del protocollo d'intesa tra il comando militare dell'esercito della Sardegna e il comune di Cagliari a sottoscrivere il documento che sancirà la collaborazione per la realizzazione di un servizio di accoglienza gratuito a favore di persone con disabilità gravi e anche gravissime da svolgersi presso lo stabilimento balneare militare Poetto ci saranno il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo e il comandante del comando militare dell'esercito il generale di brigata Stefano Scano. Bentornati in studio per la terza ed ultima parte del telegiornale che apriamo con una spezzone ormai come di consueto il martedì di Allo Specchio programma che va in onda ogni martedì in prima serata su canale 40 insieme alla dottoressa psicologa e psicoterapeuta Maria Mameli in questa puntata abbiamo parlato del magico e misterioso mondo dei sogni ve ne vogliamo proporre un pezzetto in anteprima vediamo la storia dello studio dei sogni parte da lontano il padre di questa disciplina Sigmund Freud al quale poi successivamente si unirà anche il suo primo allievo poi collega da Jung o Yang insomma dipende un po' da come lo vogliamo pronunciare e dicevamo una storia che parte da lontano che affonda le radici in studi molto complessi. Certo sì prima di parlare insomma della nascita dell'interpretazione dei sogni come appunto abbiamo detto parte da Sigmund Freud ci piace pensare un attimino all'aspetto magico che stava descrivendo lei prima no perché anche a partire da Freud e tutte le teorie che si sono sviluppate dopo è sempre rimasta quest'area di magie di mistero tant'è che gli antichi pensavano che gli dei si esprimessero sulle persone attraverso i sogni e che quindi i sogni fossero suggerimenti degli dei portando le persone insomma a fare della propria vita cose particolari no sì la prima teoria strutturata diciamo così è quella del famoso Freud che scrisse appunto il primo libro sull'interpretazione dei sogni dove ha dato una prima chiave di codifica dei sogni da cui poi tutti gli altri Jung compreso hanno preso spunto e composto delle teorie formulato delle teorie che si discostavano da quella che era quella freudiana iniziale e dunque l'appuntamento con allo specchio è questa sera come di consueto dopo il telegiornale delle 20 e 30 andiamo avanti dopo il rinvio della data del 26 maggio dovuto al maltempo si terrà a monserrato presso casa spiga la presentazione del complotto dei calafatti ultimo romanzo di francesco abate la nuova data è giovedì 9 giugno con inizio alle 21 e 30 a organizzare l'evento sono sempre le associazioni prometeo e pauli aps in collaborazione con la monserrato teca vediamo adesso invece un servizio sulle gare di surf del water sport festival in corso di svolgimento nelle acque di sottotorre a calasetta riparte domani mercoledì 8 giugno a calasetta il water sport festival di surf con le gare internazionali che termineranno domenica 12 giugno lo spot di fronte alla spiaggia di sottotorre è stato molto apprezzato sin qui dai surfisti sia stranieri sia italiani e sardi nell'ultimo fine settimana si è svolta la seconda tappa dell'italian slalom tour e nella piazza belli si sono ottenute le premiazioni dei vincitori vediamo quali sono stati i risultati nelle diverse categorie nella grand master si è imposto eros salonia del circolo costa ponente con un punteggio di 12.0 davanti a carlo lignola del circolo canottieri napoli e graziano marzi del circolo surf torbole tre master primo posto per massimiliano brunetti della lega navale di albisola con un punteggio di 2.7 davanti a giorgio giorgi del circolo del mare di alghero ed alessio tappino del tramontana voltrisurf massimiliano brunetti della lega navale di albisola si è imposto tra i pinna davanti a michele laurenza planet sail bracciano e giulio milanelli del windsurf livorno ssd tra i foil infine il primo posto è andato a giorgio giorgi del circolo del mare di alghero con un punteggio 2.7 davanti a michele laurenza planet sail bracciano ed anna biagiolini del circolo velico marina iulia l'ideatore del world sport festival di calasetta salvatore casula e il patron antonello jesu hanno consegnato ad anna biagiolini un trofeo come donna che ha partecipato al torneo nazionale anna biagini è campionessa europea ifca under 20 del 2010 michele aggorini si è imposta nel ventitresimo giro del miniere femminile ottava coppa città di silicua giro del cigeri conclusosi ieri mattina a silicua sono stati necessari gli ultimi 200 metri di volata fino al traguardo a decretare la vincitrice nonostante gli 11 minuti di vantaggio nella classifica generale il colpo di reni è stato ancora quello di michela gorini particolari portacolori scusate del team fausto coppi fermignano davanti ad eleonora pilleri alla lituana rasa rumasite nella classifica generale del giro alle spalle di michela gorini si sono classificate alice capone valentina zuco rispettivamente seconda e terza nell'albo d'oro della manifestazione e con questa notizia è tutto il nostro telegiornale termina qui vi ringrazio per averci seguito e aver scelto l'informazione di canale 40 adesso come di consueto le previsioni meteo poi no as in curso il telegiornale in lingua sarda e come già detto questa sera l'appuntamento in prima serata con una nuova puntata di allo specchio arrivederci grazie